ah va bene raga allora ci vediamo oggi si si al solito posto sei sola? si si vabbè vieni con me raga che onore oggi col bullo purezza bellezza reciproco affetto sincerità e prolungata consuetudine sono i valori essenziali di un vero amico per la giovanissima cantante lauriota noemi chiacchio che ha lanciato il suo primo singolo gli amici veri accompagnato da una peculiare estensione vocale la giovane cantante insieme alla sua vocal coach carmen liguori della scuola the voice of the soul e con l'ausilio professionale di sincroproduzioni hanno deciso di realizzare il videoclip già disponibile su youtube tra i luoghi più suggestivi di Lauria e dell'area sud lucana non ti lasciano da sola ma restano con te ma la gelosia a volte fa dividere anche chi non si è mai tradito ma ho voluto raccontare una storia che mi appartiene per me l'amicizia è un valore fondamentale non esistono distanza colore della pelle confini l'amicizia quando è vera non conosce ostacoli giuseppe ielpo e la sincroproduzione hanno tramutato in immagini la mia storia realizzando un videoclip intenso ci racconta emozionata noemi e riferendosi al suo sogno alla sua passione innata per la canzone aggiunge gli amici veri già dice tanto la mia strada è lunga ma credo in me stessa la mia vita vivo tra note e parole io ci riuscirò lo so che vincerò ma perderai un amico come me 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 come me